Attacchiamo il Selvino! E' strano quello che si prova mentre si fa una salita, un'ascesa, dove ci sono stati diversi in Italia e qui, senti, quasi il vada la gente, vada la gente, è strano, è un'analizzazione che ho provato pochissime volte nella mia vita, però è sempre bello, è sempre stupendo, sembra di essere quella gocciolina di far parte di quella vittoria, per me non sono un grande esperto di ciclismo, non sono un grande pedalatore, un grande ciclista, cicloturista, ciclamatore, però mi impegno, ed è straordinario poter affrontare queste salite dove qui c'è stato il sudore dei più grandi campioni, è bellissimo! Mancano cinque tornanti, solo cinque, ogni tornante è dedicato a un campione, bellissimo! E se sono qua, stamattina, devo ringraziare solo Giorgio Brandipla, Giorgione di Gisiel Mediare, grazie Giorgio, grazie! L'ultimo tornante! Tostarella, tostarella, da affrontare senza il giusto rispetto, soprattutto senza l'allenamento. Ero fermo da un po' in qualche... Grandi emozioni. Sì